4 ottobre 92. Vorrei, molto reverendo e luciferino direttore, lei deve migliorare subito la qualità della mia vita. Si è domandato o si è fatto spiegare per bene il perché io sono ferocemente inchiodato a vedere processi del lunedì. Appelli del martedì, 90 minuti dribbling e tutte le partite di calcio possibili. Le rispondo senza peli nell'uovo, dicendo pane al vino e vino al pane. Scappo da una realtà che fa vomitare. Vede, caro dottor Poltroni, lei è una persona illuminata, progressista. Si batte per dei valori di sinistra che sono stati il mio salvagente in tutta una vita. E per questo la stimo molto e le sono grato a lei e a tutta la sua banda. Ma lei è direttore totale, l'altro è segretario nazionale, un altro segretario regionale, dirigente sindacale, tribuno interregionale, capo manipolo. E io? Io? Come sempre niente di niente. Una merda. Lei va, briga, torna, viene invitato ai congressi nazionali, viene fotografato, pregato di andare a cena fuori, riceve telefonate. Buongiorno, dottor. Come va lì? Come va giù? Come va su? Come va là? Omaggi a sua moglie. Ma andiamo, voi capi, segretari, capetti. Ne avete di pezze d'appoggio per essere, non dico felici, ma almeno soddisfatti. Se poi uno è scemo, ce ne sono, e lei lo sa, si trova sempre gonfio come un tacchino americano prima di Natale per tutte quelle conferme del suo potere. E io? Io niente. Io non ho mai avuto niente. D'accordo, sono come la pensate voi, mediocre, ignorante, leghista, fascista, qualunquista, volgare, televisiere, funariano e baudiano. Ma secondo voi perché dovrei essere felice? E perché ora che le cose vanno anche molto male, dovrei star tranquillo. Secondo voi dove mi posso appoggiare? Solo a questa mia livida invidia, al desiderio che tutti, come me, siano mediocri, non invitati, mai fotografati e senza amici, immersi sempre in un traffico osceno, con una moglie ripugnante, brutti, grassi, senza una lira e col salvadanaio in pezzi, con un bilocale al Tiburtino. Lei dove abita? A casal bruciato? La prego, signor Lupp. Non finga di non capire. Andiamo, che avete capito tutti benissimo. Voi, quando succede qualcosa di brutto o le cose vanno male, fate la faccia di circostanza da funeralieri. Però in serata andate a un ristorante alla moda a parlare con amici intelligenti e simpatici. Io invece sono sempre agli arresti domiciliari, in una casa di merda, senza un libro, ma con la domenica sportiva. Non faccio la faccia cupa perché mi vergogno della mia tristezza, perché sono disperato. Ma fingo di sorridere e non ne posso più. Abbiate pietà di me e datemi una mano. Guardate che posso anche diventare cattivo, eh? Da solo no, ma in gruppo. Se mi stanano da casa, posso diventare molto pericoloso, perché sono incazzato ormai, come una belva. Voi predicate l'uguaglianza da molto tempo, lottate contro le sopraffazioni, ma non è forse sopraffazione, farmi vivere una vita d'affogna come quella che vivo io. Aiuto, tiratemi fuori da qui. Dividete con me una piccola parte dei vostri successi. Non chiedo molto, credetemi. Mi bastano solo poche cose per essere meno infelice. Vede, reverendo, in fondo questa è la differenza fra noi. Lei, la sua soddisfazione, la sua felicità, la nasconde per prudenza. Io nascondo la mia infelicità per vergogna e fingo tragicamente di essere soddisfatto. Ma sono, credetemi, disperato. La prego, Loop. Ma un pezzo di merda faccia qualcosa. Io non chiedo molto, chiedo solo che in pochi mesi scompaiano la mafia siciliana. Cosa nostra americana, la camorra napoletana, la sacra corona pugliese, l'andrangheta portoghese. Gli scippi nelle città lucane, i furti di automobili e nelle case, la droga, l'AIDS, i sequestri di persona, gli illeciti amministrativi e la vecchiaia. Che aumentino contemporaneamente gli stipendi dei dipendenti, i profitti degli imprenditori, le esportazioni, che diminuiscano le spese pubbliche e le importazioni. Vorrei tanto poi che migliorasse la qualità dei programmi televisivi e che diminuisse il numero degli spot pubblicitari. E poi che una ragazza di 23 anni, coi capelli corvini, pelle bianca, gli occhi azzurro-viola, gambe lunghe, seno piccolo ma durissimo, laureata in medicina e specializzata in andrologia e di abitologia, ricchissima perché ha ereditato 600 miliardi da uno zio sacerdote ebreo, ma giapponese, si innamorasse perdutamente di me e che lo dicesse ai quattro venti. Vorrei anche imparare nei prossimi due mesi a suonare la chitarra classica, spagnola, a dipingere, a sciare, a pattinare su ghiaccio e a rotelle, andare in windsurf, scrivere un romanzo di successo, a diventare un critico d'arte e un famoso cantante rock. Poi mi piacerebbe dimostrare 30 anni di meno, dimagrire di 40 chili, aumentare la statura di 15 centimetri, mettere su una muscolatura come uno della ginnastica artistica, avere i capelli biondi. Poi mi è necessario diventare famoso come Madonna, bravo come Maradona a giocare a calcio, ma con entrambi i piedi e a giocare a golf come Niklaus e a giocare a tennis con la destra come Edberg e con la sinistra come Vasinevic. Mi piacerebbe avere una villa in Toscana come quella della contessa Frescobaldi, andare a visitare i vigneti a cavallo e andare a caccia nella tenuta con Carlo d'Inghilterra. Vorrei tanto andare alla Berlitz e in due soli giorni imparare a parlare, a scrivere perfettamente l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, e già che ci sono anche l'italiano, lingua della quale conosco male tutti i verbi, anche quelli regolari. Mi piacerebbe diventare un grande scultore e un grande esperto di storia delle religioni dell'India e della Cina. Secondo lei, ma mi dica la verità però, sarà possibile tutto questo in così poco tempo? Mi indichi quindi per iscritto, in un'edizione straordinaria del suo spettabile giornale, quando posso incominciare e gli indirizzi di una scuola serale dove posso imparare tutto questo? O secondo lei mi conviene andare direttamente a Lourdes? Vorrei tanto credere in Dio e non morire mai. Ho scritto, vorrei adottare per sembrare una brava persona? Molti bambini come mi ha faro vevuti Allen, senza però sodomizzarli con cetrioli di campo come fanno loro. Non lasciatemi però con la faccia contro la televisione, vi scongiuro, abbiate pietà di me.